Buongiorno a tutti, sono Viviana Lucia della sezione Via di Infra e oggi il nostro programma di webinar di approfondimento e condivisione delle conoscenze sulla valutazione di impatto ambientale si occuperà dei fattori geologia e acque che saranno presentati dalla nostra responsabile di sezione la dottoressa Anna Cacciuni e dall'ingegnere Saveri Venturelli. Proseguiamo con questo percorso che si svolge come avete visto tutti i mercoledì e i venerdì di marzo dalle ore 11 e vi ricordo che la settimana prossima parleremo di paesaggio e cambiamenti climatici. A monte di questo programma di incontri il nostro obiettivo è diffondere la conoscenza di questo strumento che è la via alla maggior parte del pubblico interessato come strumento che si è evoluto e aggiornato negli anni integrando sempre nuovi obiettivi come ad esempio una maggiore attenzione alla tutela della biodiversità e del suolo, la considerazione delle sfide climatiche e la promozione di un uso più efficiente delle risorse. Il rafforzamento della resilienza dei grandi progetti infrastrutturali soprattutto è una maggior partecipazione del pubblico. In questo percorso di aggiornamento che abbiamo organizzato la sezione via di Ispra all'interno di SNPA ha dato il suo contributo mettendo a frutto l'esperienza maturata nell'affiancamento alla commissione via con la proposta di questo documento che è uno strumento per gli estensori degli studi di impatto ambientale e per i valutatori. Ricordiamo che le norme tecniche qui presentate sono in attesa di adozione formale tramite provvedimento normativo da parte del ministero. vi invitiamo a partecipare attivamente a questi incontri ponendo domande ai relatori tramite la chat di Zoom. Le domande a cui non sarà possibile rispondere in diretta saranno poi predisposte in un documento pubblicato. Infatti ricordo che ogni webinar è registrato e disponibile sul sito Ispra insieme alle slide, al programma completo e alle risposte alle domande del pubblico sulla pagina Ispra dedicata a questo evento dove avete trovato il link. Una nota di servizio dato l'elevato numero di accessi e di richieste dell'attestato abbiamo deciso di dare un attestato unico per la partecipazione a tutti i webinar alla fine del percorso per cui continuate a scrivere la vostra mail per la richiesta quindi nome, cognome e mail nella chat e poi alla fine dei nove webinar quindi primi di aprile vi arriveranno i certi attestati perché il con questo numero elevato di accessi non eravamo pronti il nostro programma non funziona bene per cui abbiamo deciso di organizzare in questo modo. Adesso passo la parola alla dottoressa Cacciuni e seguirà poi l'ingegnere Venturelli. Ricordo di spegnere i microfoni per tutti perché si sentono alcuni rumori e vi ringrazio per la partecipazione. Grazie Salve a tutti io sono appunto Anna Cacciuni sono il responsabile della sezione via di Ispra. Per riprendere un po' il discorso e l'inquadramento relativo alle norme tecniche che vi andiamo a presentare vorrevo richiamare il contesto normativo nel quale ci troviamo. Come tutte le persone appunto che si interessano in questa materia sappiamo che il decreto legislativo 104-2017 ha abrogato il DPCM del 1988 che recava appunto le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale. In questo momento quindi siamo in assenza di una specifica normativa ma i punti di riferimento per la redazione degli studi di impatto ambientale sono quelli contenuti all'interno dell'articolo 22 della legge e all'interno dell'allegato 7 alla stessa che arrega appunto i contenuti dello studio di impatto ambientale. Altro strumento utile per la redazione degli studi di impatto ambientale sono poi le linee guida predisposte dalla comunità europea. All'interno di questo percorso lo stesso articolo 25 del decreto 100 del decreto legislativo 104-2017 prevedeva che fosse il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente a proporre delle linee guida nazionali e norme tecniche per la documentazione appunto della documentazione finalizzata alla valutazione di impatto ambientale. In questo contesto il Ministero dell'Ambiente oggi MITE ha chiesto a Dispra di redarre naturalmente con l'SNPA come capofila dell'SNPA la normativa tecnica e il primo documento che abbiamo appunto elaborato è questa linea guida che fornisce appunto le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale. Questa norma tecnica è stata pubblicata all'interno della nostra collana appunto di linee guida SNPA e ha appunto lo scopo di integrare quelle che sono le indicazioni dell'articolo 22 e dell'allegato 7 e sono valide per tutti i contesti e per tutte le categorie di opere degli allegati 2 e 3 della legge stessa. Quindi queste norme tecniche si collocano come un documento integrativo dell'allegato 7. Il percorso che abbiamo descritto, che abbiamo delineato per la redazione degli studi di impatto ambientale che abbiamo esposto nel primo webinar e qui riassunto. Praticamente in questo momento stiamo affrontando in modo più approfondito quello che è il secondo step, ossia una volta appunto definita l'opera e effettuate le analisi e le motivazioni di coerenza delle stesse con gli strumenti pianificatori vigenti, lo step 2 prevede appunto una analisi approfondita dello stato dell'ambiente, quindi la definizione dello scenario di base. Come l'abbiamo trattato lo scenario di base? Naturalmente abbiamo fatto riferimento alle normative, alle tematiche ambientali, facendo anche diciamo un percorso di analisi e approfondimento di come le tematiche ambientali sono state nel tempo considerate e esaminate. Praticamente se noi partiamo dalla prima direttiva sulla via, quella del 1985 e la 337, vediamo che per quanto riguarda gli aspetti che riguardano la componente, fra virgolette, fino adesso definita suolo, sottosuolo, si parla semplicemente di soil, soil e water, mentre questa declinazione appunto di suolo ed acqua diventa più puntuale e più stringente all'interno del DPCM 1988, quello che recava appunto le norme tecniche oggi non più vigenti. In questa elencazione estremamente puntuale e specifica delle componenti e fattori ambientali cosa troviamo? Troviamo una casella indicata come ambiente idrico all'interno del quale ricadono tutti gli aspetti relativi alle acque, quindi acque sotterranee, superficiali, quindi acque dolci, salmastre, marine, acque di transizione e non solo considerate come componenti ambientali ma anche come risorsa e poi il suolo e il sottosuolo che vengono intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico nel quadro naturalmente dell'ambiente che si sta esaminando ma anche come risorsa non rinnovabile. Naturalmente la normativa, la sensibilità ambientale di conseguenza nel tempo sono andata avanti. Sono andata avanti all'interno della direttiva 52 del 2014 recepita appunto con il decreto legislativo 104 del 2017 e vediamo che lo scenario viene in qualche modo ampliato. In questo caso si parla di land, soil, water, air and climate. Praticamente abbiamo questo land che nella traduzione italiana prende la connotazione di territorio, territorio, suolo, acqua, aria e clima. Questo ci ha portato a facendo appunto un raffronto tra le componenti ambientali dell'88, i fattori adesso enunciati nel 152 e la necessità di dare delle indicazioni, delle norme tecniche più approfondite e chiare che definissero appunto le tematiche ambientali e il contesto nel quale ci muoviamo, siamo passati dalla declinazione delle parole territorio, suolo ed acqua a individuare due macro tematiche specifiche. Da una parte appunto quindi il suolo, l'uso del suolo e il patrimonio agroalimentare che nel contesto italiano assume poi una rilevanza peculiare e particolare. Del suolo abbiamo parlato nel webinar dello scorso mercoledì e abbiamo visto appunto come questa tematica non è solo una tematica estremamente attenzionata anche a livello comunitario, ma che necessita poi all'interno degli studi di impatto ambientale, ma ancor più durante la realizzazione e poi nella fase post operam, specialmente nel caso di ripristini e nel caso di monitoraggi specifici, di un'attenzione e di una competenza peculiare. Per cui abbiamo pensato di dedicare a questa macro tematica un ruolo a parte, a sé stante. E quindi nella seconda macro categoria, che è quella di cui parliamo oggi, abbiamo voluto inserire quelli che sono appunto tutti gli aspetti geologici e tutto quello che è il comparto acqua, naturalmente intesa in tutte le sue configurazioni e in entrambi i casi, sia quando parliamo di geologia che di acque, parliamo di contesto ambientale, ma parliamo anche di risorsa, di risorse in generale. Tra l'altro lo stesso passaggio viene fatto dalla comunità europea. Se noi ci riferiamo alle linee guida europee, laddove si considerano nel box 8 quelli che sono i tipi di dati da considerare per lo scenario di base, vediamo nell'elencazione specifica riferirsi sia al suolo, alla qualità dei suoli, ma separatamente alla geologia, alle acque superficiali e sotterranee e scostiere, intese appunto nella loro completa eccezione. Quindi i fattori ambientali nella nostra enencazione sono suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare, intesi sotto il profilo pedologico e come risorsa non rinnovabile, uso attuale del territorio, con specifico riferimento al patrimonio agroalimentare e nella parte D abbiamo la geologia e le acque. Quindi il sottosuolo è relativo contesto geodinamico, le acque sotterranee e le acque superficiali interne di transizione marine, anche però il rapporto con gli altri componenti, specialmente con il rapporto poi con quello che è il comparto biotico, anche perché non dobbiamo scordare che è un tutt'uno estremamente collegato, cioè da un lato abbiamo sì le componenti abiotiche che possono essere appunto la componente geologica in senso stretto, ma è la trattazione di un certo livello della componente acque, ma naturalmente l'interazione fra questo comparto e il comparto biotico e il comparto climatico è quanto mai stringente. L'esimplificazione di quello che è il ciclo dell'acqua ne è una valida conferma. L'altra cosa su cui mi preme richiamare l'attenzione sono appunto le definizioni che abbiamo inserito all'interno della normativa. Appunto parliamo di area di studio distinguendo in area vasta e area di sito. Naturalmente, specialmente nella trattazione della componente geologica, è quanto mai importante partire da una configurazione geologica regionale e via via scendere di scala fino alla definizione specifica dell'area di sito, sulla quale naturalmente le conoscenze e gli approfondimenti dovranno essere peculiari e specifiche. Altro aspetto molto importante è la caratterizzazione dei dati che vengono utilizzati negli studi di impatto ambientale. I dati naturalmente devono essere completi, aggiornati e di adeguato dettaglio. E l'altra cosa importante è l'indicazione delle fonti. È importante fare anche tesoro di altri dati che derivano appunto dalla progettazione, piuttosto che dati elaborati nell'ambito di altri studi. Devono essere evidenziate le metodologie utilizzate per la raccolta e l'individuazione di questi dati, ma altra cosa importante è anche evidenziare e fornire eventuali aspetti relativi alla difficoltà di reperire i dati. Naturalmente per quanto riguarda il patrimonio geologico, specialmente per quello che è l'inquadramento dell'area vasta, è estremamente importante fare riferimento a tutto quello che è il patrimonio disponibile sul portale del Servizio Geologico d'Italia, dove è possibile trovare moltissime informazioni che vanno dalla cartografia, il Servizio Geologico d'Italia è organo cartografico dello Stato per quanto riguarda la materia geologica, ma anche i dati puntuali, la banca dati dei sondaggi ad esempio, ed altri importanti aspetti. Altra fonte di dati è anche il progetto. Ricordo che la normativa di via fa riferimento all'articolo 5 per la redazione degli studi di impatto ambientale al progetto di fattibilità, così com'è definito e descritto dal Decreto Legislativo 50 2016 all'articolo 23, ossia com'è definito nel Codice dei Contratti Pubblici. In tale contesto il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrauliche, sismiche e quindi è di estremo dettaglio. E anche naturalmente indagini geotecniche con sondaggi specifici. Infatti richiamo l'attenzione sul fatto che si parla di svolgimento di indagini. Quindi nonostante siamo in una fase progettuale che potremmo considerare preliminare, nel progetto di fattibilità è espressamente previsto che avvengano e siano svolte indagini specifiche. Questo è un esempio di un progetto, in questo caso un progetto preliminare. Siamo in una procedura di via speciale, una procedura che adesso non viene più applicata, però questo semplicemente è per farvi vedere come all'interno della documentazione che viene presentata per uno studio di impatto ambientale, la parte diciamo progettuale è molto spesso appunto considerevole e molto consistente e di supporto poi sia per la redazione degli studi di impatto ambientale ma anche di supporto a chi valuta gli studi stessi. All'interno dei progetti preliminari quindi ritroviamo cartografie geologiche, idrogeologiche, geoporfologiche, sismiche, nonché sondaggi geotecnici, quindi planimetrie relative alle campagne quindi alla loro ubicazione e poi naturalmente relazioni sismiche, relazioni idrauliche che possono essere appunto di supporto nel processo valutativo. Quindi lo scenario di base per quanto riguarda appunto anche la tematica in esame, la tematica geologica come le altre tematiche deve descrivere lo stato ma anche le tendenze della componente ambientale ed essere poi da base per l'elaborazione del progetto di monitoraggio ambientale. Nello specifico per la componente geologia, nello scenario di base abbiamo cercato di dare tutte le indicazioni possibili per la redazione degli studi di impatto ambientale. Tutte le indicazioni possibili indipendentemente dalla tipologia specifica dell'opera. Considerate che queste norme che noi abbiamo proposto sono per tutte le opere comprese nell'allegato 2 e nell'allegato 3, quindi le indicazioni sono estremamente puntuali, ma naturalmente poi sta all'estensore dello studio individuare, approfondire e selezionare quello che poi è più pertinente alla tipologia di opera che sta trattando. Comunque è sempre indispensabile l'inquadramento geologico regionale, la caratterizzazione geologica, la definizione dell'assetto stratigrafico e strutturale, anche dei fondali marini quando siamo vicino alla linea di costa oppure siamo in presenza di opere in ambiente marino. Altra cosa estremamente importante è la caratterizzazione geomorfologica e l'individuazione dei processi di modellamento in atto e il loro stato di attività, con particolare attenzione allo stato evolutivo dei processi di modellamento, anche in considerazione degli eventi estremi e dell'effetto quindi che i cambiamenti climatici possono avere sull'aria. L'interazione dell'aspetto dei cambiamenti climatici viene sottolineato sia dalla normativa europea che dalla nostra normativa. È importante poi anche la caratterizzazione litologica, ma con un aspetto particolare se siamo in presenza appunto di litotipi che possono contenere minerali o sostanze pericolose per la salute umana. Altro aspetto estremamente importante è la definizione della sismicità dell'area vasta, ma anche dell'area di sito. Naturalmente si farà riferimento a quella che è la classificazione sismica del territorio nazionale, alle sue evoluzioni, alla normativa specifica in materia, ma a secondo dei contesti ma anche della tipologia di opere estremamente importanti sono gli studi di microzonazione sismica e la definizione della pericolosità sismica del sito di intervento, ma anche l'individuazione di eventuali aree suscettibili di fagliazioni superficiali oppure la descrizione di altri tipi di manifestazioni che possono essere problematiche, dalle manifestazioni vulcaniche dai fenomeni vulcanici alle manifestazioni geotermali oppure eventuali fenomeni di bradisismo o emissioni di gas radon. Quindi è importante la caratterizzazione delle aree soggette a fenomeni di subsidenza oppure di sollevamento che possono essere sia di origine antropica ma anche dovute ad esempio a inizioni o estrazioni di fluidi dal sottosuolo. La possibilità di formazioni, di depressioni, cavità oppure sprofondamenti dovuti a cavità sotterranee oppure la presenza di depositi di riporto o spianamenti di aree dovuti ad attività antropiche sono estremamente importanti nella ricostruzione appunto del sito e dell'area che andiamo a considerare. Altro aspetto è quello dei siti contaminati. Se siamo in presenza e in vicinanza degli stessi facendo riferimento alla specifica normativa su questi va data contezza della caratterizzazione e delle eventuali attività di bonifica che sono in corso in quelle aree. Va verificata la presenza di geositi o altri luoghi iscrivibili al patrimonio geologico e verificare se vanno messe poi in atto delle attività di specifica tutela. Altro aspetto estremamente importante è quello appunto di eseguire ed acquisire rilievi e indagini specifiche con un adeguato livello di dettaglio. Inoltre vanno individuate anche quelle che sono eventuali interazioni con il comparto biotico. Stessa cosa per le acque sotterranee. Naturalmente in questo caso si potrà far riferimento alla pianificazione e programmazione di settore vigente appunto nelle aree e alle eventuali misure di salvaguardia che sono previste. Quindi è fondamentale la caratterizzazione idrogeologica che sarà fatta naturalmente a valle della caratterizzazione geologica. la definizione degli acquiferi e dei corpi idrici sotterrani che possono essere sia direttamente che indirettamente interferite dall'opera in progetto. Questo cosa comporta? Comporta anche lo studio della dinamica di ricarica delle falde e della circolazione delle acque nel sottosuolo l'eventuale scambio con corpi idrici superficiali e anche la determinazione dello stato di vulnerabilità degli acquiferi nonché il contesto qualitativo delle acque appunto che possono essere interessate. E questo comporta anche un accensimento, una caratterizzazione delle sorgenti e dei pozzi presenti nell'aria. Tutto questo nell'appunto definizione dello scenario di base è estremamente diciamo importante abbiamo fatto un lungo elenco di aspetti che vanno considerati ed esaminati perché sono funzionali alla definizione delle alternative alternative che vanno esaminate e discriminate dal punto di vista ambientale. Quindi quanto più è completa e approfondita la caratterizzazione dello scenario di base tanto più semplice sarà poter affrontare ed analizzare le alternative che sono possibili specialmente dal punto di vista localizzativo. Lo step successivo è quello dell'analisi della compatibilità dell'opera quindi è quello dell'analisi del contesto ambientale in riferimento all'opera stessa. E deve essere esplicata in riferimento alle diverse fasi progettuali quindi alla fase di cantiere alla fase di esercizio e all'eventuale fase di dismissione dell'opera. Questo è un altro elemento nuovo della normativa la fase di dismissione. E naturalmente vanno considerati anche le possibili conseguenti legate ai cambiamenti climatici. Quindi quali sono le informazioni che vanno sviluppate? Naturalmente l'individuazione delle attività di cantiere o di esercizio delle opere che potrebbero interferire con le naturali dinamiche. Considerate pure le tendenze appunto introdotte dai cambiamenti climatici alla base dei processi di modellamento geomertologico o con il loro stato di attività. E l'individuazione dell'interferenza delle aree di cantiere e dei siti di inserimento delle opere con aree contaminate come dicevo prima lo studio dei siti contaminati o potenzialmente contaminati e con le relative attività di bonifica. è importante poi l'individuazione delle attività connesse appunto alla fase di costruzione oppure di esercizio dell'opera che possono determinare mungimento in azioni di fluidi o scavo in sotterraneo che potrebbero determinare appunto l'insorgenza di deformazioni del suolo. Possono essere dei sollevamenti può essere subsidenza può essere uno sprofondamento della superficie topografica o può essere l'accentuazione o l'innesco di fenomeni preesistenti come ad esempio frane oppure nel caso di particolari tipologie di opere possono esserci delle innesche di eventuali sismicità dovute per esempio a perforazioni profonde collegate alle risorse che vengono estratte appunto per scopi energetici. L'altra cosa che va fatta è la definizione dei possibili effetti di alterazione degli equilibri esistenti in termini appunto di stabilità e comportamento geomeccanico dei terreni. Naturalmente questo dipende sempre opera per opera e contesto ambientale e va riferito al modello geologico al modello geotecnico che è stato appunto realizzato in fase di progettazione dell'opera. Sia durante le attività di cantiere che di esercizio bisogna anche considerare come dicevo prima le interferenze con le dinamiche dell'ambiente marino costiero e definire le possibili alterazioni degli equilibri esistenti sia in termini di alterazioni morfologiche dei fondali che perdita di biodiversità. Per quanto riguarda le acque sotterranee anche in questo caso lo studio delle variazioni dello stato qualitativo dei corpi idrici sia superficiali che sotterrani delle aree interferite direttamente o indirettamente dall'opera in progetto devono essere devono tendere a stabilire la compatibilità ambientale e la sostenibilità degli interventi previsti appunto dal progetto sia in relazione a quelli che sono gli obiettivi di qualità dei corpi idrici ma anche in relazione al bilancio idrico del bacino direttamente coinvolto naturalmente in tutta questa serie di analisi si può fare riferimento alle diverse linee guida che sono pubblicate appunto dal sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e qui viene uscito viscito quello appunto che rega l'analisi dello stato quantitativo e il monitoraggio dei corpi idrici sotterraneo sempre per la compatibilità dell'opera naturalmente l'interferenza con le sorgenti con i pozzi specialmente se siamo in presenza di pozzi destinati al consumo umano va trattato con estrema attenzione discriminando tra aree di ricarica e aree interferite direttamente dal dal progetto altro aspetto di particolare attenzione che sviluppiamo nella norma tecnica è quello delle mitigazioni e compensazioni che nel caso appunto della componente geologica e acque in generale devono tendere alla salvaguardia della risorsa naturale sia in termini qualitativi che quantitativi e alla non alterazione degli equilibri e delle naturali dinamiche morfo-evolutive considerate pure le tendenze indotte dai cambiamenti climatici poi naturalmente se siamo in presenza di rischio sismico vulcanico idraulico idrogeologico rischi di sprofondamento o altre situazioni bisogna fare in modo di mitigare detti rischi e di non aggravare ulteriormente eventuali elementi di pericolosità che possono essere appunto presenti nell'area nel territorio e innescati dall'opera che stiamo realizzando di conseguenza diventa importante il progetto di monitoraggio ambientale che viene anche questo secondo l'attuale normativa allegato allo studio di impatto ambientale che deve naturalmente comprendere la fase anteopera corso d'opera e di esercizio e naturalmente deve considerare sia la tipologia di opera che stiamo considerando appunto nel caso della tematica in oggetto si farà ricorso a sopralluoghi e a tutte quelle che sono le gli elementi che sono venute alla luce durante lo studio di impatto ambientale per capire appunto qual è il modo migliore per individuare le aree a rischio e vedere appunto come sviluppare il progetto di monitoraggio ambientale praticamente vanno sottoposte a monitoraggio quelle aree che sono a rischio già prima dell'inizio dei lavori e quindi molto spesso hanno già dei monitoraggi in essere ma vanno indirizzati e specificati ancora meglio in relazione alle opere e alle attività che si intendono eseguire oppure quelle aree che sono a rischio in quanto i lavori di realizzazione dell'opera oppure le indagini necessarie alla sua progettazione possono innescare dei fenomeni di pericolosità oppure sono a rischio in quanto l'opera potrebbe nel corso del tempo produrre degli effetti negativi in quell'area o nelle aree circostanti e poi lo dicevo prima un aspetto a parte è il monitoraggio per quanto riguarda la tutela del patrimonio geologico e dei geositi la stessa cosa per le acque sotterranee naturalmente in funzione della interferenza del progetto con le eventuali acque sotterranee consorgenti e quindi con la risorsa idrica andando messo in attività degli specifici strumenti di monitoraggio e con questo passerei la parola al collega Saverio Venturelli per continuare diciamo la trattazione con l'aspetto specifico delle acque superficiali grazie a tutti grazie a tutti Buongiorno a tutti, sono Saverio Venturelli e adesso come preannunciato dalla collega Cacciuni, affronteremo la tematica specifica inerente alle acque superficiali. Le acque superficiali sempre tenendo in considerazione le norme tecniche sulla redazione degli studi di impatto ambientale, quindi le linee guida SNPA 28 del 2020. Gli argomenti trattati quindi saranno l'analisi dello stato dell'ambiente con il dettaglio, la descrizione delle aree di studio, della normativa e della pianificazione di riferimento, la caratteristica dei dati, poi affronteremo l'analisi della compatibilità ambientale, le misure di mitigazione e il progetto di monitoraggio ambientale. Per alcuni di questi argomenti verranno fatti anche degli esempi, verranno messi in evidenza delle criticità riscontrate nelle analisi di alcuni progetti che ISPRA ha valutato nella sua funzione di supporto alla Commissione Tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero e verranno riportati anche alcuni esempi di richieste di approfondimenti fatti ai vari proponenti delle opere oggetto di valutazione. Quindi le informazioni che devono essere contenute in uno studio di impatto ambientale, per quanto riguarda il fattore acque superficiali, devono riguardare principalmente tre macro temi. Il primo macro tema è l'analisi dello stato delle acque superficiali, analisi dello stato che può essere desunto attraverso la conoscenza della normativa e della pianificazione di riferimento e per poi arrivare all'individuazione delle criticità nell'area in cui si inserisce l'opera e alla definizione dello scenario di base. Una volta individuato lo scenario di base, si passa alla valutazione degli effetti, degli impatti sulle acque superficiali e pertanto si valuta un'analisi di compatibilità ambientale dell'opera e delle eventuali misure di mitigazione, per poi passare all'individuazione degli indicatori da inserire nel piano di monitoraggio via da allegare allo studio di impatto ambientale. Tutti questo processo, questo schema di flusso, è chiaramente da riferirsi in relazione all'opera in progetto e il livello informativo da inserire nello studio di impatto ambientale è almeno equivalente a quello di un progetto di fattibilità tecnico-economica, così come definito dall'articolo 23 del codice degli appalti e le informazioni comunque devono essere tali da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali sulle acque superficiali. In questa presentazione faremo particolare quindi riferimento alle acque superficiali, ma lo schema logico può essere replicato anche per altre tipologie di acque, per le acque sotterranee, per le acque di transizione e per le acque marino-costiere. Quindi, come diceva precedentemente la dottoressa Caccioni, fondamentale è l'individuazione dell'area di studio, che per quanto riguarda i corpi idrici superficiali deve essere estesa a tutta l'area vasta con specifici approfondimenti relativa all'area di sito e quindi nello studio di impatto ambientale deve essere fornita una cartografia in scala adeguata, riferita sia all'area vasta, cosa si intende per area vasta? È la porzione di territorio nella quale si esauriscono gli effetti significativi diretti e indiretti dell'intervento sui corpi idrici superficiali connessi. Un esempio può essere il reticolo ideografico o addirittura l'intero bacino ideografico. E poi deve essere eseguita anche un'analisi riferita all'area di sito. L'area di sito, che sono le superfici direttamente interessate dagli interventi in progetto, ed è un significativo intorno di ampiezza tale da poter comprendere i fenomeni in corso o previsti. Nel caso delle acque superficiali può essere o un singolo corpo idrico o un punto particolare del corpo idrico. Quindi passiamo al primo step, analisi dello stato delle acque superficiali. Uno studio di impatto ambientale deve necessariamente prevedere un'analisi della normativa della pianificazione e della programmazione inerente alle acque superficiali. Questo perché dall'analisi della norma, da questa analisi, possono essere desunte le informazioni e quindi i dati necessari al proponente per delineare lo scenario di base. Quindi è indispensabile conoscere, per chi affronta la redazione di uno studio di impatto ambientale, la normativa di riferimento inerente al fattore ambientale che si sta descrivendo. In questo caso, per le acque superficiali, abbiamo che il riferimento principale è la direttiva quadroacque, una direttiva nata ai fini della tutela sia qualitativa ma anche da un punto di vista gestionale delle risorse idriche. Alla direttiva quadroacque sono seguite nel corso degli anni diversi, diverse direttive più specifiche, ad esempio quelle inerenti di acque sotterranee, le acque potabili, le acque di bagnazione e così via, oltre a una serie di decisioni e di regolamenti. In Italia la direttiva sulle acque superficiali è stata recepita dal decreto legislativo 152 del 2006, agli articoli 53 e 176 ed da una serie di decreti attuativi. I decreti attuativi principali riguardano per esempio il 151 del 2008, i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici in analisi delle pressioni, il regolamento, il decreto ministeriale 56 del 2009 che inerente i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento e il decreto ministeriale 260 del 2010 inerente proprio alla classificazione dei corpi idrici superficiali. Inoltre sono stati emanati diversi altri decreti legislativi riguardo ad esempio gli standard di qualità ambientale e l'elenco delle sostanze prioritarie da ricercare nel settore delle politiche delle acque. Ad ampliare le linee di indirizzo per l'analisi degli acque superficiali sono stati di recente emanati anche due decreti direttoriali del Ministero dell'Ambiente inerenti le linee guida sulla valutazione ambientale estante sulle derivazioni idriche e il decreto direttoriale 30 per quanto riguarda i metodi per determinare il deflusso minimo vitale e il deflusso ecologico. Da quanto detto quindi si evince che la normativa, avere ben chiara la normativa di riferimento per le acque superficiali risulta essere indispensabili. La normativa è anche quindi la pianificazione. La pianificazione di riferimento per le acque, il piano di riferimento per le acque superficiali e il piano di bacino distrettuale che è uno strumento conoscitivo regolato dall'articolo 65 del 152 del 2006 ed è uno strumento conoscitivo per la tutela quali quantitativa delle risorse idriche. I piani di bacino possono essere anche diciamo redatti per piani stralcio e sono redatti dalle autorità di bacino. Attualmente però le autorità di bacino sono state soppresse e attualmente l'Italia e sono vigenti le autorità distrettuali. Autorità distrettuali che diciamo sono l'organo che dirige i sette distretti idrografici in cui è divisa l'Italia secondo il decreto del Ministero dell'Ambiente 294 del 2016 entrato in vigore nel 2017 e per la precisione sono sette autorità distrettuali così come riportato nella figura. Quindi dicevo i piani di bacino possono essere redatti attraverso i piani stralci. Il principale è il piano di gestione del distretto idrografico che è uno strumento operativo per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque attraverso un approccio integrato nei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico. Poi poi vi è il piano di bilancio idrico e il piano di assetto idrogeologico attualmente diciamo per la parte idraulica sostituito dal piano di gestione rischio alluvioni redatto in ottemperanza della direttiva eh duemilasette sessanta recepita dall'ordinamento italiano dal decreto legislativo quarantanove del duemiladieci. I eh diciamo il piano di gestione può essere attuato a scala più riduce a scala di distretto può essere attuato in una scala inferiore o regionale o o attraverso o regionale attraverso il piano di tutela delle acque oppure ehm eh oppure eh su un ente territoriale ottimale ehm che gestisce praticamente il servizio idrico integrato ehm che riguarda le materie di eh fognatura acquedotti eh depurazione. Quindi la le caratteristiche dei dati che possono essere desunti dall'applicazione della normativa eh detta e dall'analisi della pianificazione che agge che agisce sull'area in cui si va a inserire l'opera devono essere completi, aggiornati e di dettaglio adeguato alle caratteristiche del progetto proposto indicando chiaramente le fonti utilizzate. Questi questi dati quindi come come dicevamo prima servono per l'individuazione dello scenario di base e per eh evidenziare eventuali criticità nell'area in cui si inserisce l'opera. Quindi lo scenario di base che cosa ehm quindi quali sono le informazioni eh che uno studio di impatto ambientale deve contenere eh i per avere uno scenario di base completo chiaramente sempre in relazione all'opera che andiamo a valutare. Allora deve deve devono esserci informazioni inerenti di individuazione ed analisi delle pressioni esistenti eh e la la caratterizzazione idrografica e idrologica dei corpi idrici interferiti. La la caratterizzazione quali quantitativa delle risorse idriche superficiali naturali, dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali delle acque superficiali a specifica destinazione della portata solida dei corsi d'acqua delle sezioni rilevanti. Ci devono essere informazioni eh riferite alla caratterizzazione chimico-fisica dei corpi idrici potenzialmente contaminati e devono ci devono essere indicazioni relative alle aree sensibili, alle zone vulnerabili da da nitrati di origine agricole da prodotti fitosanitari e eh delle aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità e processi di desertificazione. Ehm in questa slide viene evidenziata appunto in riferimento all'individuazione dello scenario di base una criticità riscontrata in un'istruttoria di via. Una criticità eh relativa a una caratterizzazione eccessivamente generica del contesto eh in cui andava a inserirsi l'opera e quindi si riporta ehm cosa si è ritenuto necessario richiedere al proponente per ehm per superare tale criticità eh ovvero una una un approfondimento delle caratteristiche quali quantitative secondo una normativa vigente quindi per questo l'importanza della conoscenza della normativa vigente a tutto il reticolo idrografico impattato ed in particolare riferimento a beh al bacino del fiume chiese perché l'opera insomma si inseriva in questo bacino. Nel dettaglio cosa si richiedeva di eh di di approfondire? Lo stato quale quantitativo il riferimento agli obiettivi di qualità imposti dalla direttiva duemilasessanta e quindi dal decreto legislativo centocinquantadue del duemilasei e dei suoi decreti attuativi e sugli usi delle acque nell'area oggetto di studio in quattro strettamente connessi alle scelte progettuali di regolazione dell'invaso perché l'opera eh oggetto di valutazione era appunto un un invaso. Una volta individuato lo scenario di base ehm si passa all'analisi e la valutazione degli impatti e quindi al alla variazione dello scenario di base. Come si eh approccia a questa ehm a questo step e quali sono le informazioni che devono essere contenute in uno studio di impatto ambientale? Devono essere contenute eh le eh informazioni inerenti le variazioni quindi dello stato quali quantitativo dei corpi idrici superficiali nelle aree interferite direttamente o indirettamente dall'opera in progetto al fine di stabilire la compatibilità ambientale e la sostenibilità degli interventi previsti dall'opera in progetto. In relazione agli obiettivi di qualità e tempi stabiliti per il raggiungimento di detti obiettivi e al miglioramento dei finiti dalla normativa vigente di settore. Vorrei porre l'attenzione a come la normativa e sempre i i gli obiettivi della normativa eh e della pianificazione sono sempre sullo sfondo e quindi sono sempre da tenere in considerazione eh nello svolgimento dello studio di impatto ambientale. Quali possono essere ehm chiaramente la verifica di compatibilità ambientale è in funzione delle opere, delle attività e dei singoli interventi. Eh qui ho riportato per esempio un ehm delle delle valutazioni che devono essere eseguite ehm in riferimento a eh delle infrastrutture lineari ovvero quando oggetto dello studio di impatto della valutazione di impatto ambientale e quindi dello studio di impatto ambientale possono essere delle strade, delle autostrade, delle ferrovie. Eh cosa deve essere affrontato? La verifica di compatibilità idraulica del progetto e quindi ad esempio la verifica degli attraversamenti dei corpi idrici superficiali oppure e anche la caratterizzazione dei sistemi di raccolta, trattamento e allontanamento eh delle acque meteoriche, dette acque di piattaforma, per l'opera in progetto e le relative aree di cantiere. Quindi vediamo eh ad esempio nel in un istruttoria affrontata ehm come eh e dalle dalle immagini riportate nella slide eh come può cambiare un eh un un'area con l'inserimento di un'infrastruttura che in questo caso è un ponte su un corpo un corpo idrico superficiale. Eh chiaramente qui si si lega la sicurezza idraulica con gli effetti ambientali che l'inserimento di un'infrastruttura eh può avere sul corpo idrico eh impattato. Eh per quanto riguarda eh le infrastrutture eh il eh riferimento è alla circolare del duemiladiciannove dei lavori pubblici che sono le norme tecniche per le costruzioni e eh cosa occorre rilevare quando ehm ehm vi è l'inserimento di un ponte eh su un corpo idrico. Sicuramente le variazioni, l'inalzamento dei livelli, l'ipotetico innalzamento dei livelli idrici e quindi il franco di sicurezza, le variazioni della distribuzione della velocità della corrente del corpo idrico, la variazione della capacità di trasporto solido della corrente e le variazioni della capacità di laminazione in alvio e quindi le variazioni eventuali variazioni delle aree di esondazione. Tutto questo deve essere inserito in uno studio idrologico e in uno studio idraulico che deve essere eh diciamo a supporto delle informazioni da eh poi ehm da da eh riportare nello studio di impatto ambientale per vedere appunto gli effetti che questi possono avere sul corpo idrico. Eh qui anche qui eh riportiamo una criticità riscontrata nell'istruttoria eh in un'istruttoria eh fatta e ehm in cui si 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 evidenziava praticamente la carenza di informazioni della relazione idraulica e della relazione idrologica e quindi si richiedeva eh delle delle degli approfondimenti, delle integrazioni in modo tale da verificare da un punto di vista idraulico in modo dettagliato tutti gli attraversamenti previsti sia dei corsi d'acqua principale che di quelli secondari nonché di tutti una serie di altri corpi idrici interferiti dal tracciato in progetto perché molte volte ehm gli studi idrologici e idraulici a supporto dello studio di impatto ambientale sono carenti appunto di informazioni inerenti proprio questi aspetti. Passiamo invece all'altro argomento alle acque di eh sempre un altro argomento eh importante quando eh valutiamo l'interazione opera acque superficiali. Eh ci si riferisce in questo caso alle acque di piattaforma. Le acque di piattaforma di piattaforma la cui descrizione del sistema di raccolta trattamento e smaltimento è normata dall'articolo centotredici del decreto legislativo centocinquantadue del duemila e sei. Il proponente deve quindi eseguire il dimensionamento e la verifica delle cunette, delle caditoi, delle condotte e dei fossi dei fossi di guardia e prevedere l'allacciamento a vasche di trattamento delle acque di prima pioggia. Eh le acque di piattaforma e di scarpata così raccolte sono convogliate ai recapiti finali. Eh eventuale laminazione delle portate è realizzata attraverso il risezionamento dei fossi di guardia e l'individuazione di apposite aree di accumulo. Quali sono le informazioni necessarie per affrontare la tematica delle acque di piattaforma? Chiaramente sicuramente la caratterizzazione e la misurazione delle precipitazioni, il tempo di corrivazione e il coefficiente di deflusso, il calcolo della portata di piena del bacino, il dimensionamento e la verifica delle tubazioni, i principali inquinanti presenti negli acque da smaltire e sistemi di trattamento. Queste informazioni necessarie sicuramente a capire anche l'impatto che hanno eh queste acque di piattaforma ai recapiti finali che molto spesso possono essere i corpi idrici superficiali. Per quanto riguarda i ricettori finali e quindi lo scarico in di queste acque i riferimenti normativi sono la tabella tre dell'allegato cinque alla parte terza del decreto legislativo centocinquantadue del duemilasei che detta che dà indicazioni sui valori limiti di emissione delle acque superficiali e in fognatura e eh importantissimo l'articolo cento tre per quanto riguarda il recapito sul suolo in quanto è fatto di vieto di scaricare o di scaricare queste acque sul suolo negli strati superficiali del sottosuolo a patto che eh ci sono delle eccezioni come può essere l'eccessiva onerosità economica di di recapitare i reflui in corpi idrici superficiali a fronte dei benefici ambientali e per lo scarico di acque meteoriche convogliate in rete fognari separate. Eh quindi eh diciamo è fatto di vieto ma non è un divieto assoluto ma eh diciamo ci sono delle eccezioni che chiaramente vanno valutate dal punto di vista economico e ambientale. Eh anche qui eh per un'istruttoria eh viene riportato un esempio ehm di una criticità riscontrata in questo in uno studio di impatto ambientale. In questo caso era una criticità ehm diciamo il sistema di eh eh di di il sistema inerente le acque meteoriche, le acque di piattaforma si inseriva in un'area che aveva già criticità da un punto di vista idraulico e eh quindi si è ritenuto eh necessario richiedere al proponente ehm delle degli approfondimenti e in particolare eh per tutta la rete di raccolta smaltimento delle acque meteoriche eh di dilavamento delle superfici stradali di progetto e per le vasche di trattamento delle acque di prima pioggia e i risultati e del dimensionamento e della verifica. L'esatta collocazione dei punti di scarico e l'impatto che questa i punti di scarico potevano è avere sui corpi ricettori sempre seguendo le indicazioni della normativa vigente ed l'esatta collocazione di eventuali bacini di espansione di fito di di fito depurazione in modo da verificarne la compatibilità idraulica e la compatibilità con le indicazioni eh pianificatorie vigenti. Una volta individuato quindi eh lo scenario di base la variazione dello scenario di base valutato gli effetti che l'inserimento dell'opera può avere sull'ambiente nell'area oggetto di valutazione si passa all'individuazione delle misure di mitigazione che dovranno tendere alla alla salvaguardia delle risorse idriche sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi e alle a mitigazione eh del rischio idraulico. Chiaramente questo eh come anche eh evidentemente la valutazione degli degli impatti sui corpi idrici deve essere fatta in tutte le fasi progettuali quindi sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio. In fase di cantiere diciamo che uno degli impatti più ricorrenti può essere l'aumento delle della turbidità delle acque causate dal dilavamento del materiale trasportato dalle precipitazioni nei tratti in costruzione nelle fiste di accesso ai cantieri oppure da interventi eseguiti direttamente in alveo. Eh come in fase di esercizio invece ehm si può avere come effetto si può avere appunto come dicevamo prima ehm le acque mette lo scarico delle acque meteoriche oppure eh lo sversamento accidentale di sostanze inquinanti. Eh quali possono essere quindi le misure di mitigazione per affrontare ad esempio questi due effetti sui corpi idrici. Possono essere ad esempio l'inserimento delle vasche di sedimentazione per pervenire possibili apporti di inerti ai corsi d'acqua. Possono essere appunto i sistemi di raccolta e contenimento al fine di evitare rilasci nei corsi d'acqua di miscele cementizie relativi additivi per getti di calcio e struzzo. Può essere il riutilizzo delle acque meteoriche per non sovraccaricare eh il recapiti finali delle opere di l'inserimento di opere di di difesa idraulica l'attuazione di norme di del deflusso minimo vitale per garantire eh una portata ecologica adeguata al alla sostenibilità dell'intervento e eh possono essere inserite delle rampe di risalite di pesci così come eh riportiamo così come ho riportato degli esempi a mh in in questa slide. Quindi una volta eh definite le eh diciamo le misure eh di mitigazione eh bisogna individuare eh uno studio di impatto ambientale in maniera preliminare degli indicatori che potranno essere inseriti nel progetto di monitoraggio ambientale eh da redigere a supporto dello studio di impatto ambientale. Il progetto di monitoraggio ambientale relativo alla componente ambiente idrico superficiale è quindi finalizzato a valutare in relazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera quindi in tutte le fasi di realizzazione dell'opera le eventuali variazioni rispetto alla situazione ante operam e quindi allo scenario di base di tutti i parametri e o indicatori utilizzati per definire le caratteristiche quali quantitative dei corpi idrici potenzialmente interessati dall'azione di progetto. Quindi tutti quegli indicatori eh che ci serviranno nel corso eh della realizzazione dell'opera eh per individuare, per definire lo scenario di base, la variazione dello scenario di base e gli eventuali eh interventi di mitigazione. Eh il piano di monitoraggio quindi deve essere contestualizzato nell'ambito anche il piano di monitoraggio quindi deve essere contestualizzato nell'ambito della normativa di settore e implementato in conformità alla pianificazione e programmazione inerente della tutela quali quantitativa delle acque alle diverse scale territoriali. Eh dovrà quindi consentire di valutare durante tutte le fasi la non compromissione degli obiettivi di qualità ambientali fissati proprio per i diversi corpi idrici fissati proprio dalla normativa e dalla pianificazione che deve essere presa il riferimento il riferimento eh durante la redazione dello studio di impatto ambientale. Quindi si vede che i due documenti sia il progetto di monitoraggio ambientale sia lo studio di impatto ambientale hanno come base le stesse eh diciamo gli stesse le stesse informazioni. Come riferimento eh per la redazione per l'individuazione di questi indicatori e quindi del piano di monitoraggio eh si eh ci si può far riferimento alle linee guida nelle nelle more delle emanazioni di nuove norme tecniche nelle linee guide per la predisposizione del piano di monitoraggio degli indirizzi metodologici specifici dell'ambiente idrico che costituisce un atto di indirizzo eh redatto da da Ispra che costituisce un atto di indirizzo per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale in attuazione delle disposizioni contenute dell'articolo ventotto del centocinquantadue del duemilasei. Eh qui a titolo esemplificativo ho riportato delle delle schede di sintesi allegate alla al riferimento eh precedentemente detto ehm delle dove eh vengono eh vengono evidenziati eh alcuni indicatori eh individuati eh per il monitoraggio della componente del fattore eh ambienti acque superficiali ehm e ehm sono praticamente eh questi indicatori sono riferiti a un obiettivo specifico del P del piano di monitoraggio e nello specifico al controllo delle caratteristiche idrauliche e come si può vedere è stato è stato sono stati individuati come indicatori la portata del corpo idrico il livello idrico eh la portata solida e livello batimetrico eh altro esempio un altro obiettivo specifico può essere per il per il piano di monitoraggio inerente eh ai eh corpi idrici superficiali può essere il controllo degli scari degli scarichi e in tale in tale contesto ehm sono stati individuati come eh eh indicatori eh o come indici la caratterizzazione degli scarichi inquinanti sversati per bacino e eh le caratteristiche quali quantitativi quali qualitative delle acque in input o in output dell'impianto di un impianto di depurazione con questo avrei terminato grazie 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 gra alla richiesta di qual è l'autorità competente alla deroga allo scarico nel sottosuolo naturalmente dipende da qual è la situazione specifica comunque in questo caso la competenza regionale oppure dell'ex provincia quindi delle città metropolitane però va un attimo verificato nello specifico di cosa si sta parlando quale tipologia di progetto oppure il contesto insomma generale della della del proprio relativa alla tipologia di opera e di scarico e tra l'altro nel caso in cui ci si trovi nel caso di una valutazione impatta ambientale di carattere regionale in quel caso c'è il provvedimento provvedimento unico quindi in un'unica procedura possono essere richieste più autorizzazioni tra cui anche questa quindi va un attimo visto nello nello specifico non so se chi ha fatto la domanda vuole specificarlo ulteriormente potremmo poi darle risposta invece un'altra domanda che è giunta è relativa scusate la ricerca scusate un attimo dietro come è possibile conciliare la necessità di definire le caratteristiche progettuali nel dettaglio per la realizzazione di uno studio di impatto ambientale completo approfondito quel livello di dettaglio dello studio di fattibilità mettiamo ad esempio la necessità di valutare il franco di sicurezza di un ponte su un corso d'acqua questo può essere fatto solamente conoscendo nel dettaglio la sezione del corso d'acqua in corrispondenza del pozzo e dunque occorre progettare il ponte nel dettaglio allora per quanto riguarda la normativa generale appunto si fa rinverimento al livello di fattibilità di progetto però nella normativa stessa è specificamente indicato che devono essere dati tutti gli elementi necessari per una completa valutazione di impatto ambientale non so se il collega vuole aggiungere qualche altra cosa sì sì infatti nella slide insomma c'era scritto che il livello minimo è il livello di fattibilità chiaramente devono essere nello studio di impatto ambientale presenti tutte le informazioni necessarie al fine di valutare gli effetti sul corpo idrico quindi sicuramente tutte le informazioni utili necessarie per l'individuazione del franco di sicurezza e quindi tutte le informazioni inerente quindi si parla di sicurezza in questo caso sicurezza idraulica che poi viene riflessa negli effetti ambientali tutte le informazioni per valutare questo franco devono essere sicuramente eh riportate dal proponente nello studio di impatto ambientale eh indubbiamente questo è un tema caldo infatti c'è anche il commento di Marina Venturi che dice appunto ehm per la valutazione di alcuni impatti è necessaria la presentazione almeno di un definitivo io ho sempre chiesto il preliminare ma con informazioni a livello di definitivo per gli elementi che hanno conseguenze che devono essere valutate dal punto di vista ambientale infatti è corretto in questo modo e tra l'altro la normativa dà facoltà proprio di agire così allora tre domande nella trattazione della matrice geologia sono stati riportati esempi concreti dove è possibile reperire tale informazioni non sono stati riportati esempi concreti dove è possibile reperire tale informazioni di dettaglio ehm allora non ho rimesso degli degli esempi specifici perché praticamente mh la situazione è sempre molto 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 diversificata dipende appunto ehm molto da quella che è la tipologia di il delle opere ehm esempi possono essere ehm non saprei dare delle indicazioni nelle pubblicazioni però relative alla valutazione di impatto ambientale molto spesso ci sono degli esempi specifici su trattazione di opere particolari ehm probabilmente ehm anticipo che ehm nella seconda metà di quest'anno noi faremo anche un corso di valutazione di impatto ambientale online e in quel caso daremo degli degli esempi più più specifici poi se eh c'è una situazione particolare di riferimento eh non so se la persona che ha fatto eh la domanda vuole 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 darne vuole esporla potremmo dare appunto poi risposta specifica eh anche perché eh diciamo le tipologie di opere dal punto di vista eh geologico sono diciamo fino a un certo punto schematizzabili in categorie naturalmente eh possiamo parlare di eh opere lineari o opere puntuali ma anche nel caso delle opere lineari molto spesso nella loro trattazione ci possiamo trovare davanti a degli aspetti peculiari quello che mi viene adesso in mente è l'esempio per esempio di un'infrastruttura di aria eh che abbiamo seguito qualche anno fa eh dove ehm il piano di monitoraggio a un certo punto ha messo in evidenza che nello studio di impatto ambientale non si era minimamente considerato un deposito eh di eh materiale di risulta di un'antica miniera di cui non si aveva più informazione neanche dal punto di vista storico della della sua ubicazione anche perché questa miniera aveva cambiato diversi nomi e quindi solo in alcuni cataloghi era riportata con un nome e alla fine eh non era stato messo in luce che l'infrastruttura tagliava appunto il deposito di risulta di questi materiali consideriamo che era una miniera di ehm antimonite quindi materiali comunque con un certo carico di inquinanti e questo ha messo un po' in crisi eh la realizzazione ed è stato il tutto evidenziato soltanto con la costruzione e con il piano di monitoraggio per le terre e rocce da scavo che è un'altra normativa che comunque poi rientra nel contesto appunto ambientale e geologico. La seconda domanda è la MZS deve essere sempre presente nello studio di impatto ambientale o solo eh sulla base della sismicità eh dell'aria vasta? Eh no non dipende dipende pure qui siamo un po' nel caso nel caso per caso dipende appunto dalla tipologia di opera dal livello di eh e dal livello di progettazione e naturalmente quella di area vasta è sempre necessaria poi la microzonazione va specificata volta per volta a secondo appunto delle tipologie ehm attraverso quali atensi devono essere individuate o meno e caratterizzate le aree soggette a eh subesidenza nel SIA. Beh la prima la prima analisi si fa sempre attraverso un discorso di di letteratura e poi quando si va nel caso del monitoraggio specifico dell'aria eh durante la realizzazione progettuale molto spesso si ricorre a ehm indagini eh di tipo topografico per vedere appunto le differenze e gli abbassamenti di quota o altro indagini topografiche molto spesso con sistemi diciamo di ultima di ultima generazione. Vediamo se ci sono altre domande. Vorrei venisse chiarito in quale fase dello studio devono essere valutate le alternative di progetto? Devono essere valutate in funzione anche degli impatti prodotti su tutte le tematiche ambientali? se così non si rischia di avere un documento prolisto di difficile comprensione o a rischio ripetizione. Allora eh secondo il nostro percorso ehm è proprio diciamo ehm sulle tematiche ambientali che va fatta un un discrimine. Naturalmente si è molto agevolati specialmente nella prima fase quando si parla della coerenza dell'opera e si vanno ad affrontare quelle che sono tutti i livelli di piani di pianificazione. In quel caso si fa un un primo screening e poi nelle fasi successive quando si cominciano ad affrontare le tematiche si affina sempre di più ehm la situazione. Più che un documento prolisto alla fine forse più il percorso mentale che è un po' più articolato in questo caso. E poi con ehm diciamo un ottimo scenario di base e una ehm considerazione specifica dell'analisi delle coerenze con gli strumenti progettuali è possibile dare delle alternative che siano delle alternative valide non diciamo ehm alternative esposte solo per dover esporre delle alternative perché previste da norma. Mi approfitto in questa sede anche se non è la più approvata per fare una domanda generica riferimento all'articolo ventise del codice dell'ambiente. Come si rapporta la vinca e la eh val Sat con il provvedimento di via eh sono due valutazioni a sé stanti o il provvedimento di via nelle eventualità siano necessari la vinca e val Sat eh integrata integra queste ultime. Allora non so che cosa si intenda per Acronicum o Val Sat e oppure Val Sal Salute non non capisco. Per quanto invece riguarda la vinca e eh la via eh sono eh all'interno dello studio di impatto ambientale eh la vinca deve avere una eh deve seguire tutta la normativa della vinca e deve avere documenti specifici che sono quelli richiesti nella valutazione appunto di incidenza ambientale. Poi naturalmente il provvedimento è un provvedimento unico eh quindi eh il il parere sarà un unico parere che ti racconto della eh della delzia e della e della vinca. Sulla vinca poi faremo un approfondimento eh in uno dei prossimi webinar quindi eventualmente possiamo anche esplicitare ancora di più il il tema. E poi se ehm ehm chi ha fatto la domanda sta ascoltando e può specificare per Val Sat che cosa intende eh possiamo hanno detto che sia che equivale alla bassa. Ah la bassa la bassa naturalmente. Valutazioni che sta in vita ambientale e territoriale quindi sì eh proprio la bassa. Eh sì allora ah è una è propedeutica naturalmente va tenuto punto quando poi dopo si passa alla fase di rivalutazione di impatto ambientale. Nella norma tecnica abbiamo un capitolo all'inizio proprio sul rapporto fra noi l'abbiamo affrontato fra bassa e via quindi può essere quello il punto di di riferimento per per questa situazione. Per questo anno. Sì arrivo. Le norme tecniche SNPA possono essere usate da subito dovranno essere prima recepite da una norma. Allora le norme tecniche abbiamo riscontrato che molti proponenti già le utilizzano. Cioè gli studi di impatto ambientale di molti proponenti sono già redatte secondo questa eh normativa tecnica anche perché non c'è un altro riferimento quindi per molti eh l'hanno ritenuta utile e quindi l'hanno utilizzata. Per essere vincolanti devono essere ricepite da una norma specifica dal BAP e del Ministero dell'Ambiente tra l'altro di concerto col Ministero delle Attività Culturali e col Ministero della Salute dell'Ambiente. Quindi credo sarà un percorso anche un po' lungo. Quella delle 12 e 21 che comunque è... Se un'istanza di via viene presentata in questo periodo l'autorità competente può richiedere legittimamente che formalmente segua le nuove linee guida anche se non ancora ufficializzate da apposito al decreto? E ho già risposto nella domanda precedente. è un po' la stessa. Eh credo volessero intendere la VIS. Eh sulla VIS anche sulla VIS e del rapporto abbiamo parlato nel primo eh intervento tematico quello sulla salute. La collega ha fatto proprio il rapporto tra la trattazione della della salute umana all'interno del SIA e la trattazione della VIS. E su questo faremo un approfondimento se non erro il giorno 20 26. Eh vedo un attimo ve lo confermo. Quindi praticamente il 26 il 26 marzo eh avremo ospite tra l'altro una collega dell'Istituto Superiore di Sanità che eh ci parlerà appunto della della VIS. esiste un'indicazione sulla validità temporale dei dati bibliografici portate portate a supporto dell'analisi dello scenario di base. Eh certo che c'è una dipende dipende dalle tematiche. Eh in alcuni casi c'è una validità temporale in altri casi diciamo i dati sono utilizzabili più a lungo. e caso per caso tematica per tematica. Naturalmente se parliamo della qualità delle acque ovvio eh dovrò sempre riferirmi ai dati più aggiornati che è possibile reperirle. questo è per Saverio. Il progetto di base nel caso di deviazione di un corso d'acqua deve prevedere l'analisi di suolo oggetto della deviazione. eh deve prevedere l'analisi di suolo dipende dal tipo di di sì deve prevedere non solo l'analisi del suolo ma anche della vegetazione ripariale che viene interessata dalla deviazione stessa. a questo punto mi dicono che devo interrompere il collegamento quindi vi saluto e eh le domande che non abbiamo risposto naturalmente come per gli altri web la risposta sarà data per iscritto e le risposte saranno pubblicate sulla pagina eh dell'evento. grazie a tutti per la partecipazione e vi aspettiamo naturalmente ehm il prossimo il prossimo mercoledì eh dove appunto ci sarà la trattazione del paesaggio, patrimonio culturale e beni materiali. Arrivederci.